...di caratteri cinesi il nostro percorso, la nostra traccia attraverso la lingua cinese con un altro pronome. Prima abbiamo visto il tu e abbiamo definito il tu come la persona che mi alla pari attraverso l'immagine della bilancia con i piatti in equilibrio e adesso vediamo l'io. L'io è un'altra idea difficile da disegnare, come faccio a disegnare l'idea dell'io? E i cinesi sono sorprendenti per l'intuizione che hanno avuto, intuizione che tra l'altro testimonia che loro non riescono proprio ad essere individualisti perché la parola io prevede due persone, in quanto nella parola io sono rappresentate, qui ve l'ho messa singola, questa è l'immagine stilizzata di un'alabarda che poi sarebbe questo attrezzo qui. L'alabarda è un'arma che viene poi innestata su un'asta e serve per colpire i nemici in lontananza. Le due alabarde sono messe speculari una di fronte all'altra con l'impugnatura che però finisce in alto e le lame che si intrecciano nella parte inferiore, anche questo poi ha avuto la sua evoluzione per arrivare al carattere moderno che si pronuncia uo in mandarino. Perché disegnare due alabarde con la punta verso il basso, una di fronte all'altra per arrivare a dire io? Dove sta l'io in questa cosa? Perché l'intuizione brillante e psicologicamente molto raffinata dei cinesi è che l'io come identità individuale emerge dal confronto con l'altro. Infatti le due alabarde una di fronte all'altra con la punta verso il basso descrivono un discorso, un confronto, scusate, pacifico. È come la spada del leone di San Marco, quando la punta verso l'alto è guerra, quando la punta verso il basso è pace. Così le alabarde, per cui le alabarde con la punta verso il basso non descrivono uno scontro armato in cui le armi collidono, ma uno scontro, un confronto pacifico tra due persone. E da questo confronto pacifico speculare tra due persone emerge l'identità individuale. È un'intuizione, ripeto, psicologicamente molto avanzata, che però i cinesi hanno fatto qualche migliaio di anni fa. Qualche migliaio di anni fa, tra l'altro questa parola non indicava neppure l'io individuale, ma il sé, quindi proprio come concetto psicologico, lo diremo il giorno d'oggi, naturalmente. Ed ecco allora è brillante anche il fatto che nella definizione dell'io non ci sia l'io singolo, individuale, ma ci sia sempre il tu, la persona con la quale mi confronto alla pari, infatti le linee rimangono linee orizzontali. E questo mi porta a un altro concetto fondamentale della lingua cinese che ben si presta nella semplicità della nostra serata ad essere esemplificato, che è la parola jen che significa benevolenza. La benevolenza è una traduzione che lascia un po' il tempo che trova, perché il jen è un concetto talmente caratteristico della filosofia cinese, in particolare di quella filosofia cinese che noi individualisti chiamiamo filosofia confuciana, ma che i cinesi chiamano scuola dei letterati, che si lascia jen di solito. Il jen è il jen. Alcuni lo traducono come benevolenza, altri come umanità inteso come sentimento, addirittura alcuni arrivano a tradurlo come amore. Ma che cos'è il jen? È appunto il rapporto tra me e l'altro. Nella parola jen, questo è il sinogramma stilizzato come lo vediamo e lo studiamo oggi, nella parola antica vediamo di nuovo la componente della persona che abbiamo già visto e la componente del numero due, due linee orizzontali sono semplicemente il numero due, per cui il jen rappresenta il rapporto che io instauro con l'altro. E cos'è questo rapporto con l'altro? Come abbiamo visto un rapporto che parte dall'essere paritario, evolve in un confronto costruttivo e quindi possiamo chiamarlo benevolenza, lo chiamiamo volentieri benevolenza. L'immagine del signore di sotto è naturalmente l'immagine di Kon Fuz, il venerabile maestro Kon, che è quello che più di tutti poi ha parlato di jen, di benevolenza, declinandola in diversi rapporti sociali, di quali alcuni, di uno in particolare, parleremo adesso. Il continuo sul filone delle due persone, quindi due caratteri, la parola Peng e la parola Peng deriva dall'immagine di qualcosa di legato insieme, in particolare si suppone che queste fossero le monete cinesi legate insieme per finalità di commercio. Le monete tradizionali cinesi, perlomeno dalla fondazione dell'impero in poi, erano monete tonde con il foro quadrato al centro, le monete di Chin, che dal 221 avanti l'era volgare sono arrivate fino al 1911, il più lungo corso della storia delle monete. E queste monete, per evitare di doverle contare tutte le volte una per una, venivano legate a gruppi fissi, da 5, da 10, quello che era, in cordicelle e queste cordicelle poi legate in cintura. Per cui l'immagine primitiva rappresenta proprio questo, le linee orizzontali sono le monete nella cordicella e la linea superiore, la cintura, a cui venivano agganciate le cordicelle. Quando si doveva pagare si tirava fuori una cordicella della lunghezza desiderata. Questa immagine, di nuovo un'immagine che deriva dal mercato, dal commercio, come l'immagine della bilancia che abbiamo già visto, è servita a dare l'idea del legame che oggi viene rappresentata, stilizzata e standardizzata in questo modo. Invece l'altra che contiene la componente delle mani, quindi per noi importante, visto che noi lavoriamo con le mani, usiamo le mani, ed è l'idea della collaborazione. Due mani che viaggiano insieme, sono due mani che hanno la stessa direzione, la stessa intenzione e che quindi collaborano per uno stesso scopo. Queste due parole, la parola pong e la parola yo, messe insieme, creano l'idea di amico, l'idea di amicizia, la persona alla quale mi sento legato e la persona con la quale collaboro per uno stesso scopo, con una stessa intenzione. Questa amicizia poi la ritroviamo anche qui sotto nella semplificazione del carattere ai, che è il carattere amore, dove all'idea di amicizia si aggiunge un'idea di intimità. Questa immagine che c'era, lo dico al passato perché nella semplificazione è andata persa, la possiamo riconoscere qui nel carattere moderno ma non semplificato e poi la possiamo riconoscere nelle forme più antiche, nelle calligrafie più antiche. Questa è la forma del cuore, che abbiamo già visto anche nel carattere Ning e quindi anche per i cinesi l'amore si associa al cuore, è abbastanza intuitivo, ma la parte superiore è una mano ad artiglio che va a mettere una sorta di coperchio su questa relazione di amicizia nella parte inferiore e su questo sentimento che sento nel cuore, perché a differenza dell'amicizia che può essere anche pubblica, l'amore è qualcosa di privato, quindi il coperchio che vado a mettere è quella cortina che tiro perché a casa mia faccio quello che voglio io. Quindi ognuno pratica l'amore come crede e l'amore che crede, in cui crede. Il sentimento che intercorre in queste relazioni così intime, e questo è un altro carattere importante, ho scelto anche caratteri che abbiano delle componenti comuni in modo che la ricorrenza di queste componenti vi faciliti l'apprendimento. Anche qui troviamo la parola persona che guarda caso come parola, non come componente, si pronuncia a Yen, esattamente come Yen di benevolenza che abbiamo visto poco fa, a cui aggiungo Yen che è la componente della parola, una bocca aperta nella parte inferiore da cui escono propagandosi le ornde sonore. La combinazione dei due, la persona che parla, dà l'idea di fiducia, perché è questo il sentimento che io rivolgo all'amico ed è questo che è il sentimento che l'amico rivolge a me, fiducia. Perché abbiamo detto quel Yen che abbiamo nominato prima, la benevolenza, è un sentimento molto generale e i cinesi invece sono molto pratici, per cui Confucio certamente non andava in giro dicendo volemose bene, parlando di Yen, di qua e di là, ma spiegava come volersi bene in ciascun rapporto sociale e sono tutti sentimenti bionivoci, per cui l'imperatore deve essere giusto nei confronti del suddito e il suddito deve essere giusto nei confronti dell'imperatore. Un padre deve essere pietoso nei confronti del figlio e al contrario del figlio nei confronti del padre. Il rispetto intercorre tra fratello maggiore e fratello minore nelle due direzioni, la distinzione dei ruoli intercorre tra marito e moglie in entrambe le direzioni e la fiducia intercorre tra amico e amico. Quindi è uno dei cinque rapporti sociali individuati da Confucio, che non era soltanto filosofo, era anche filologo ed era anche sociologo e quindi andò a scegliere una parola particolare per descrivere il sentimento che intercorre all'interno dei cinque rapporti. È un sentimento che i cinesi tengono in particolare considerazione, come del resto l'amicizia, perché è un sentimento raro. L'amicizia è innanzitutto dei cinque rapporti l'unico paritario, perché gli altri quattro rapporti, imperatore suddito, marito o moglie, padre e figlio, fratello maggiore, fratello minore, distinguono il ruolo e la posizione. Amico e amico, come prima i piatti della bilancia, sono alla pari sullo stesso livello, sono l'uno per l'altro la stessa cosa. E quindi il rapporto di amicizia con la maiuscola, diremmo noi che abbiamo un alfabeto, è un rapporto importante e la fiducia che intercorre tra amico e amico, tra tutte le benevolenze, tra tutti i sentimenti, è sicuramente la più ricercata. La letteratura cinese è strapiena di rapporti di amicizia privilegiata, perché questo travalica ogni altra distinzione di classe, per cui i poveri possono essere amici dei ricchi, gli imperatori possono essere amici dei loro sudditi, i monaci possono essere amici dei militari, gli esseri umani possono essere amici degli spiriti o degli animali. Quindi va proprio oltre ogni categoria, oltre ogni classe. E questo sentimento diffuso di benevolenza contribuisce a costruire hua, l'armonia. Hua è una parola importantissima, è una delle parole cardine della lingua cinese, ma per come la stiamo vedendo noi, della testimonianza che la lingua cinese ci dà della civiltà cinese. Infatti qui ho messo un'immagine, perché volevo una testimonianza chiara e diretta, questa è la prima scena, anzi scusate, la seconda scena della cerimonia d'apertura delle Olimpiadi di Beijing 2008, dove i cinesi hanno rappresentato il meglio di sé. E nella seconda scena, nella prima scena hanno dato il benvenuto agli ospiti stranieri, usando proprio la parola Peng, che ho nominato poco fa. Nella seconda scena invece, cosa avevano di più bello da presentare della civiltà cinese se non la loro scrittura? E tra tutti i caratteri cinesi che sono mai stati inventati nella storia della Cina, e pare che dalle origini più remote al giorno d'oggi siano stati inventati circa centomila caratteri, così almeno sono stati raccolti in questo numero nell'ultimo dizionario pubblicato, tra tutti centomila caratteri hanno scelto H. Quindi per loro questo è importantissimo, l'armonia. E come definiscono l'armonia? Con una componente della bocca, che abbiamo visto poco fa anche nella parola, parola, scusate il gioco. E la parte invece di sinistra è la componente della spiga, del cereale, una piantina con le radici che affondano nel terreno, le foglie che si aprono verso il cielo e un ripiegamento che è la spiga pesante. Non dobbiamo immaginare spighe erette, dobbiamo immaginare spighe pesanti come quelle del sorgo, come quelle del riso. L'immagine della bocca e del cereale insieme suggerisce l'armonia perché? Perché tutti hanno da mangiare. Questa è l'armonia per i cinesi, questa è l'intenzione della politica cinese dalla fondazione dell'impero ai giorni nostri, che tutti abbiano da mangiare, l'impero è stato fondato per questo. Ed è per quello che io continuo a dire che la Cina non è una nazione, in senso politico istituzionale, la Cina è un sistema economico, per quello l'impero cinese esiste ancora, l'impero romano no, perché l'impero romano era una conquista militare. L'impero cinese è un sistema economico necessario, per cui tutti hanno bisogno dell'impero cinese, perché c'è questo nell'impero cinese, un migliore sfruttamento delle risorse naturali e un'equa distribuzione delle stesse. Questa è l'armonia per i cinesi e i governi cinesi almeno tentano di fare questo. Eccola, la rivediamo, la persona sedentaria, la femmina che abbiamo visto poco fa, è uno delle componenti più ricorrenti per cui ci ho dedicato un po' di tempo. La sua pronuncia è nì come parola, sembra il tuscolano, nì, la femmina, la persona seduta che dopo ricorre in tanti altri caratteri, abbiamo visto già il carattere hao. Qui però ho presentato un'evoluzione della parola femmina, perché lo stesso carattere con due puntini segnati, i capezzoli segnati, diventa una femmina matura, cioè una madre. Quindi la femmina che allatta è la madre. La cosa significativa di questo carattere, il carattere mu, che significa madre, è che in passato questo stesso carattere era anche una negazione. significava no, perché la mamma è quella che dice di no. La femmina poi ritorna con la componente del tetto, altra componente che abbiamo già visto e altra componente che potete fissare. Prima abbiamo visto il bambino sotto il tetto, la scrittura protetta e difesa, adesso vediamo la femmina. La femmina già porta con sé una posizione tranquilla, perché la posizione seduta è sicuramente una posizione tranquilla, resa ancora più tranquilla dal tetto che conferisce protezione, per cui la parola sicurezza. Questa è una parola sempre associata agli imperatori, perché gli imperatori stavano seduti sotto un tetto. Questa era la posizione degli imperatori. L'imperatore si sedeva sul trono e il trono era al centro della sala del trono. La sala del trono è al centro del palazzo imperiale. Il palazzo imperiale è al centro della capitale. La capitale è al centro dell'impero e l'impero si chiama Zhongguo, che significa la nazione centrale, centrale rispetto al mondo. Per cui quando l'imperatore si siede sul suo trono, si siede idealmente sotto la stella polare e tutto il mondo gli gira attorno. Ecco perché l'imperatore doveva essere protetto, perché l'imperatore aveva un ruolo sacerdotale oltre che politico. Non era soltanto il vertice della piramide sociale, era anche quello che metteva in comunicazione il cielo e la terra e garantiva di conseguenza l'equilibrio, parola che ritorna, nel mondo degli uomini. L'associazione tra questa parola e il potere imperiale voi la conoscete già, perché questo è lo An di piazza, Tien An Men. Tien An Men, Men significa porta, Tien significa cielo e An tranquillità e sicurezza. Per cui la porta della tranquillità celeste, la porta della sicurezza celeste. Di solito attraverso l'inglese si traduce la porta della pace celeste, ma la pace è un'altra cosa. La pace è più vicina all'idea di armonia, che abbiamo visto prima rispetto a sicurezza. Poi, a proposito di ruoli rituali, la primogenita, Gie, che oggi si rende come sorella maggiore, Gie, la femmina associata ad una stele, ad una stele funeraria, ad una zoo, ad una tavoletta. La ritualità cinese più antica e ancora oggi quella più ortodossa, rimane completamente aniconica. Quindi l'essere umano è un prodotto della natura, è un prodotto del cielo perfetto e noi esseri umani non possiamo compiere l'atto di impietà, di tentare di riprodurre l'opera perfetta del cielo. Quindi non si fanno figure umane, perlomeno non si facevano nella tradizione più antica e, ripeto, non si fanno ancora oggi nella tradizione confuciana più ortodossa. I defunti venivano rappresentati, non con statui o con ritratti, ma con tavolette su cui era scritto il loro nome. E la cura di queste tavolette e l'ufficio dei riti era affidato alle femmine, alle primogenite. Questo perché la società cinese, come si suppone oggi tutte le società umane in origine, erano matrilineari, perlomeno se non addirittura matriarcali, il che significa che la trasmissione genealogica avveniva di madre in figlia e se non addirittura che le donne avessero il potere economico e politico sulla società. Sono le stesse donne sedentari di cui vi abbiamo parlato prima, sedute che intanto però hanno inventato tutto questo. La più chiara testimonianza dell'origine matrilineare o, ripeto, addirittura matriarcale della società cinese è la parola cognome che si scrive con la componente della femmina, che significa che in origine erano le femmine a trasmettere il cognome, ma questo, ripeto, è un'ovvietà. Abbiamo dovuto aspettare antropologhe donne perché questa ovvietà diventasse ovvia per tutti, perché per gli antropologi uomini non era così, ma questa è un'ovvietà perché lo dicono i cinesi, ma noi di solito lo diciamo in latino, mater sempre certa, pater nunquan. Per cui i cinesi sapevano benissimo anche loro da dove uscivano i figli, sapere chi ce li avesse messi dentro era un'altra cosa, per cui l'unico riferimento sociale certo erano le femmine, le genealogie si potevano ricostruire solo di femmina in femmina, addirittura alcuni titoli nobiliari della Cina antica hanno a che fare con le femmine e la nascita da una femmina. Questa è la parola cognome che si usa ancora oggi, per cui se io voglio dire che di cognome faccio filippini dirò uo sin filippini perché è anche verbo, le parole cinesi hanno delle categorie grammaticali molto fluide, per cui possono essere sostantivi, verbi, particelli, avverbi, un po' di tutto a seconda di quello che ti serve. E' bello insegnare la lingua cinese. Allora, poi sempre a proposito di donne, la parola fu, questa è molto patriarcale, molto maschilista, perché hanno messo in mano una scoba di una femmina e l'hanno resa donna sposata, perché è vero, è vero, a me piace che sia vero, cioè io aderisco a questa ipotesi, non fraintendete, è vero nel senso che aderisco all'ipotesi di un'origine matrilineare o matriarcale della società umana, questo è vero, non il fatto che una donna sposata abbia la scopa in mano, ma purtroppo sappiamo benissimo che nella stragrande maggioranza dei casi la società bella è fatta dalle donne e poi ce la siamo presa noi, con la forza muscolare del maschio, ci siamo appropriati della società femminile, sedentaria, artistica e agricola e abbiamo relegato le femmine nelle stanze private della casa. Purtroppo approfittando, questo per quanto riguarda i cinesi, anche di una frase di Confucio, Confucio non era un maschilista, però disse una cosa, che i maschi governano l'esterno e le femmine governano l'interno, che poi fu interpretata con la svolta patriarcale della società cinese, nel senso che i maschi stanno fuori, si occupano di politica, economia, di tutto quello che è il mondo al di fuori, le femmine sono le regine della casa, per cui con il loro scettro di saggina in mano, poi moglie, concubina e schiavo purtroppo anche in questo ricorre, però sono delle spie linguistiche interessanti, perché questa è ancora oggi la lingua cinese, la lingua cinese quindi ci testimonia un'origine matrilineare molto interessante con alcune sopravvivenze linguistiche, ma anche una svolta patriarcale drammatica, perché la moglie è quella che prendo per i capelli, quindi sopra il disegno della femmina c'è una mano che va a prendere i capelli della donna e questa è la moglie, peggio succede le concubine, ci è, perché sopra la donna c'è addirittura un uomo in piedi, per cui la concubina è proprio uno zerbino che l'uomo calpesta e addirittura la parola schiavo, metto insieme la componente della mano che abbiamo visto prima per la collaborazione e la donna, quindi lo schiavo è una sorta di femmina, maschio o femmina che sia, è una femmina che tengo in cattività e queste insomma sono delle spie linguistiche molto tristi, che però sopravvivono, la lingua cinese è una lingua viva, quindi continua a cambiare, si inventano caratteri cinesi ancora oggi e chissà che certe cose, certi retaggi culturali non cambino. Una cosa è già cambiata, perché dicevo prima che la lingua cinese è assolutamente invariabile, quindi le parole cinesi non hanno genere, non hanno numero, non hanno tempo, non hanno modo, c'è niente in cinese, una parola la impari così e la usi sempre così. Però c'è un'unica parola che cambia per genere di tutta la lingua cinese ed è questa, la terza persona singolare, ta. Fino a un secolo fa circa esisteva un'unica terza persona singolare, ta, con la generica componente della persona sulla sinistra che abbiamo già visto prima in altri casi. Però i movimenti di emancipazione femminile in Cina sono cominciati molto presto, perché erano già cominciati nella seconda metà del XIX secolo, per cui i primi movimenti rivoluzionari come quelli dei Taiping o come quelli che noi chiamiamo dei boxer nei nostri sossidiari di storia, portavano avanti anche l'emancipazione della donna tra le varie rivoluzioni sociali e quindi il diritto di voto, il diritto all'istruzione, il diritto al divorzio, eccetera, eccetera. Diritti che tra l'altro le donne cinesi hanno ottenuto molto prima delle donne italiane e si sono viste riconosciute anche una loro terza persona singolare. Quindi questo a proposito di caratteri che vengono inventati, questo è un carattere recentissimo, questo è un carattere che ha cent'anni di storia. È stato inventato per dare testimonianza alle donne che stavano prendendo un potere, una dignità, che stavano riconquistando una dignità. Anche qui ho messo un'immagine di cui ho messo la traduzione sotto perché è una frase molto famosa, soprattutto la seconda parte, cioè le donne reggono l'altra metà del cielo. Questa è un'espressione di Mao Zedong o comunque della propaganda comunista che poi è diventata comune anche tra di noi, dire l'altra metà del cielo. Veniamo un po' più vicini alle cose di cui abbiamo trattato anche con il nostro maestro, perché ovviamente quello che noi studiamo in cinese ha una sua rilevanza linguistica e quindi alcune cose possono interessare tutti noi. A cominciare dalla parola shen. La parola shen l'ho messa per prima perché di tutta la parte privata, intima, taoista si potrebbe dire, della cultura cinese.